Maresciallo, maresciallo, ancora lei? Chi ha robato stavolta? Una scatoletta da caponatina? No, no, colonnello, non è proprio il momento di scherzare questo. Questa qui me la prendo io, perché qui è tutto un magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiaccheroni! Pettegoli! Lo sanno dicendo a tutti che mi sono pentito. E io non mi pento più di questa banana. E domani lo voglio scritto sulla prima pagina di tutti i giornali. Deve essere scritto, grosso, e Dante, Dante, non si pente più. Se domani io non leggo questa notizia, colonnello, io ritorno qui e... Caput! A lei e a tutta la sua famiglia! Caput! A voi e a tutte le vostre famiglie! A voi e a tutta la sua famiglia! Come oggi!